L'Inter che punta la Champions, come vede Moratti che rientra? Come vede Moratti che rientra, vorrei che fosse già rientrata. C'è anche lei dietro questa ipotesi? Il mio pensiero è che la società ha un grosso potenziale, ha bisogno di una presenza in Italia che rappresenti la società, che abbia passione, si avvicina alla squadra, all'allenatore. L'ho detto più volte, lo ribadisco, e ovviamente per chiunque sia stato o sia appassionato di calcio, è chiaro che Moratti come competenza e passione sarebbe una persona giusta. Non sarebbe una minastra riscaldata, insomma. Guardi, impressione di qualità non sono mai minastra riscaldata. Grazie.